Le schievelenate rappresentano un pericolo per gli animali, soprattutto per i cani, perché si presentano come dei bocconi appetibili, ma al loro interno ci sono dei chiodi pericolosissimi. A Francavilla al Mare si ripropone questo fenomeno, un problema, che quest'anno interessa la zona Michetti della città riverasca. Il sindaco Antonio Luciani e l'assessore all'ambiente Williams Marinelli spiegano che il fenomeno, come lo scorso anno, si ripropone nel periodo estivo e desta preoccupazione. Molti cittadini da qualche settimana hanno lanciato l'allarme dopo aver trovato bocconi pieni di chiodi in zona Michetti. Domenica scorsa, infatti, a Lì, mentre era il guinzaglio del padrone per la solita passeggiata, ha mangiato uno dei viusteli imbottiti di chiodi e si è salvato soltanto grazie a un intervento chirurgico. È un fenomeno che abbiamo già riscontrato l'anno scorso in un'area diversa da questa di Michetti, nell'area dove c'è l'area di sgambettamento dei cani. Stessa cosa, stesse esche, probabilmente qualcuno che non ama gli animali e io mi chiedo come si fa oggi a non amare gli animali e a compiere questi atti di una inciviltà unica. Ci siamo attivati chiamandola Cosvega che ha fatto un primo intervento di pulizia, purtroppo non trovando nessuna esca. La notte tra sabato e domenica ci hanno richiamato, quindi abbiamo subito richiamato Cosvega che di nuovo è intervenuta e questa volta abbiamo trovato su una traversina che porta al mare queste esche che sono poi dei viustel con dei chiodi al proprio interno. È una cosa che fa specie pure a dirla perché è veramente una cosa bruttissima. Abbiamo chiesto a Cosvega di fare costantemente interventi di pulizia, abbiamo chiesto alla polizia municipale di fare qualche servizio di ronda per vedere se riusciamo a beccare questo killer. Parlo a lui, se mi ascolta ti beccheremo, lo voglio dire proprio con il cuore, però una raccomandazione la facciamo a tutti i cittadini che escono con il proprio cane. Vi chiediamo di aprire gli occhi, di portare il cane al guinzaglio e se mai doveste vedere qualche esca segnalateci subito la cosa così interveniamo. Un augurio di cuore lo voglio fare a lì, il cane di Marco e Alessandra, che so che se l'è vista brutta però il peggio è passato, quindi in bocca al lupo.